A Carmagnola, antica torrefazione dal 1930, presente con il suo stand, quale modo migliore che bere un buon caffè dopo aver mangiato le delizie al peperone? Giusto, noi non manchiamo mai, settantesimo compleanno non potevamo mancare, siamo una torrefazione storica, noi consigliamo, visto che dopo una cena a base di peperoni, cose tipiche di Carmagnola, consigliamo il gran gusto che per noi è una nostra miscela che è un cavallo di battaglia, una buona miscela, tra l'altro né troppo forte né troppo dolce, una buona via di mezzo per concludere una buona cena qui alla Sagra di Carmagnola. Mi permette anche di digerire, dato che non sempre è facile. Non sempre è facile, soprattutto il peperone e quindi abbiamo pensato che col caffè potessimo dare una mano.